Allora mister, credo che insomma, parola d'ordine sia continuità rispetto all'affermazione con Monopoli o no? Sì, è continuità, è quello che abbiamo parlato anche a fine conferenza stampa dopo la partita, la continuità speriamo nel risultato, anche se poi andiamo a analizzare la squadra che andremo ad affrontare, ma di prestazione e non solo di prestazione ma soprattutto di mentalità, di continuare a far crescere questo tipo di mentalità che si era visto a sprazzi tra appanni, forse già qualcosina col Matera, poi è venuto un po' a mancare, poi siamo riusciti a portarla per 90 minuti e quindi continuazione soprattutto in questo punto di vista qua. Certamente non sarà facile, lo sappiamo, il Catania è una squadra costruita per vincere questo campionato, tra l'altro viene da un buon periodo, una bellissima vittoria a Pagani, insomma ci sarà da lottare? Sì, allora ci sarà, noi dobbiamo correre, dobbiamo continuare a correre e tanto, ad aggredire e tanto, sento, leggo un po' in giro insomma anche a livello nazionale, siamo un po' destinati come le vittime sacrificali di questa partita, ci danno già per battuti, io dico sempre che le partite si devono giocare e noi la giocheremo nel migliore dei modi, con quella che è la nostra identità che piano piano sta crescendo, sappiamo che è una partita sulla carta proibitiva anche perché per loro hanno, sicuramente è una squadra che potrebbe fare tranquillamente la Serie B già con questo organico qua, però ti ripeto, dobbiamo correre e aggredire, continuare a fare questo e poi vediamo come finirà alla fine. Da un punto di vista tattico, lei ha già in mente il senso magari scoprire le carte per mischierare la squadra? O ha ancora qualche dubbio? No, io penso che per questa partita, anche perché era stato fatto un discorso chiaro ai ragazzi, all'inizio di questo trittico di partite, che avrei avuto bisogno di tutti, quindi un po' anche per cercare di distribuire le forze e soprattutto di tenere coinvolti tutti i ragazzi, ora chi per infortunio o chi è rientrato da poco, ma se andate a vedere più o meno ho già utilizzato quasi tutti, a parte il secondo e il terzo portiere e chi pochi spezzoni o così, ho cercato anche di puntare su questo coinvolgimento del gruppo per fargli sentire tutti protagonisti, tutti indispensabili e quindi qualcosina, per domani è già tutto chiaro su come andremo a giocare e gli uomini che scenderanno in campo. Sono contento dei giovani, perché da quando sono arrivato vedo che se la stanno mettendo tutte si sentono anche molto partecipi, gente che forse aveva giocato un pochettino meno oggi sta avendo la loro possibilità, sono contento anche della crescita che stanno avendo piccola, graduale, ma c'è, mi è piaciuta molto la prestazione di Imperiale domenica, una partita importante, insomma, di la personalità che si sta mettendo Marin, Canis, Puntoriere quando è entrato, sono tante le letture che vanno fatte anche da questo punto di vista. Questo significa che anche quello che ho chiesto ai giocatori un po' più esperti, chiamiamolo così, di dargli una mano sotto questo punto di vista, di non pensare solamente alla loro prestazione, ma di aiutarli, sta piano piano accadendo. In settimana ha recuperato un giovane e anche un uomo un po' più d'esperienza, Riccardi e Maika, come stanno e se potranno ovviamente essere della partita anche magari visto che rientrano anche solo a sezione? Allora, domanda giusta e va spiegata anche questo, cioè per come ragiono io, cioè il fatto di averlo recuperato, per me un giocatore recuperato poi va allenato, cioè sono due cose diverse, perché è vero, lo vediamo in panchino, lo vediamo tra i convocati, ma un conto è recuperato, un conto va allenato, per giocare un certo tipo di calcio. Quindi è vero che l'allenatore fa cegli a tutti, ma tutti devono essere come gli altri e portati a avere una condizione per poter giocare in questo modo. Poi, che può avere la possibilità di sfruttarli 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, questi è in base a quello che hanno messo dentro nelle gambe per giocare in questo modo qua. Quindi era quello scotto che abbiamo detto anche nelle scorse conferenze, andava pagato, andava pagato perché c'era da lavorare in un certo modo. E adesso speriamo di portare questi che piano piano mi stanno rientrando al pari degli altri. Senti, le scuole di Cadionescu comunque ti crea qualche problema, visto che il ragazzo stava crescendo, stava facendo bene, per me il Monoco ha fatto una buona partita, bisognerà avviare questa squalifica, bisognerà cercare di essere ancora più intensi in mezzo al campo perché in base a come ci sistemeremo e con gli uomini che ci sistemeremo, se a due o tre in mezzo al campo, dobbiamo dare ancora maggiore intensità perché avete visto che nel mio gioco i due mediani devono avere grande intensità perché altrimenti è un sistema che può andare un po' in difficoltà. Mi è piaciuta l'intensità che hanno dato i tre davanti, gli ho fatti i complimenti a fine partita, mi aspetto ancora una grande intensità in non possesso da parte dei tre davanti e sai, quando poi comincia a vedere che tutti ragionano in un certo modo, poi viene fuori forse anche la prestazione che è venuta fuori contro una squadra forte come era onestamente il Monopoli. Senti, la partita di Catania secondo me è importante anche da un punto di vista, come posso dire, emozionale, psicologico, mi sono andato a giocare contro una squadra, contro un grande stadio, in un ambiente, insomma, quindi anche un banco di prova, come dicevi prima, anche per i ragazzi che hai a disposizione. Sono d'accordo, sono d'accordo con te anche perché sono previsti 18-20 mila spettatori, quindi coi miei ragazzi, i giovani che entrano in campo, io penso che è una partita bella da giocare, sono quelle partite che al di là di dove sappiamo che andiamo a giocare, della forza dell'avversario, sono proprio per chi fa, anche se è Lega Pro, per chi fa questo mestiere qua, ti fanno venire voglia di giocarle, quindi vediamo anche come è regionalno da un punto di vista psicologico, però dobbiamo avere, non dico la spenseratezza, anche se in tante volte la spenseratezza forse aiuta di più che la preoccupazione, di fare una partita tosta, ti ripeto, ripeto sempre queste frasi che sono correre e aggredire, perché abbiamo visto che lo possiamo fare, dobbiamo migliorare, purtroppo alle tre parti una settimana non ci hanno permesso di lavorare, però si era caricato tanto la settimana prima e forse a Francavilla siamo stati un po' meno, ne abbiamo parlato, un po' meno brillanti perché si era caricato anche tanto, però è una partita bella da giocare e penso fa piacere gli undici che scendranno in campo e poi quelli che entreranno dopo. Può creare un problema il terreno di gioco, potrebbe essere un problema visto che c'è una partita di rugby che si gioca prima e poi soprattutto c'è l'incognita del maltempo che potrebbe atteggiare? Sì, sai, loro è una squadra molto tecnica, a giocatori abbiamo detto di categoria superiore, quindi forse la qualità potrebbe favorire forse un po' più loro, noi dobbiamo andare su quelle che sono le nostre caratteristiche, la gamba, la corsa, l'aggressività e trovarla in quei giocatori che noi abbiamo davanti che facendogli arrivare la palla velocemente ci possono dare quella qualità che poi anche questa squadra ha, però io penso ci adatteremo a tutte e due le situazioni, sia se il campo poi non so in base a teloni, non teloni messi o buche o perché c'è la partita di rugby, noi dobbiamo pensare, io dobbiamo pensare alla mentalità, pur sapendo che è una partita per noi difficilissima. Vorrebbe però rivedere una squadra di rugby in un campo di calcio? Sì, sì, ma questo sicuramente, io penso che, le mie squadre hanno sempre espresso questa caratteristica in questi anni, però è una caratteristica che va costruita nel tempo, piano piano sta venendo fuori, ma io quello lo voglio vedere tutte le domeniche, poi se riusciamo anche, come abbiamo fatto a Sprazzia, a metterci anche quelle qualità di giocati che ci hanno permesso di, tornando al discorso prima, il gol di Letizia è una palla di siamo andati a pressare il portiere, eravamo in pressione sul portiere, anche altre due volte Bifulco è stato aggredito nella sua area piccola, quindi era anche stata una cosa che è indice di questa mentalità che dobbiamo avere. C'è una fase dell'incontro che penso possa essere difficile in particolare, soprattutto visto che il Catania è comunque una grande squadra, un grande pubblico, forse all'inizio? Sì, bravo, sicuramente all'inizio loro saranno sospinti dal loro pubblico, noi dobbiamo riuscire a tenere botta lì, non sarà facile, lo sappiamo, però dobbiamo provarci, mi piacerebbe rivedere un po' la partenza di Trapari, perché al di là dei due euro a gol beccati, noi eravamo partiti forti, noi eravamo arrivati due volte davanti al portiere, ma siamo lì, è sempre una questione di mentalità, cioè riuscire a giocarcela con tutti, anche se partiamo sulla carta, sicuramente sfavoriti.